...de decisioni provoca la sfiducia nell'Europa che a sua volta provoca la nascita degli estremismi. Sinistro, un uomo dell'istituzione, un suo poliziotto fa lo sciopero della fame, andrà a trovarlo? Ma io l'ho invitato al Biminale insieme agli altri sindacati e non è venuto. Che cosa? Io l'ho invitato insieme agli altri sindacati.